La mia terza elementare c'era la comunione e io mi ricordo che mi regalarono l'orologio allora si usava così, anzi mi ricordo una mia amica, i genitori, i parenti le regalarono l'enciclopedia e le mie amiche mi regalarono il diario, il diario dei segreti ma ve lo ricordate che era sottilissimo con quel lucchetto fragile fragile che mia madre rigorosamente lo apriva? inoltre mi arrivò anche una parte di corredo, il corredo, adesso non si usa più non parliamo dell'età della pietra e non è poi che io sia così anziana erano gli anni dell'aquilone, io mi ricordo andavo al mare, srotolavo il filo e c'era l'aquilone che non volava mai ora attualmente c'è la stecca, la stecca del selfie ora c'è il cellulare, c'è lo smartphone ma non in terza elementare molti bambini ora dispongono già del cellulare in prima elementare altro che comunione, prima elementare è un po' prestino e sì perché molti genitori si sentono molto ma molto sicuri sapendo di poter essere in contatto con i propri figli in ogni momento c'è un po' questa mania di tenere tutto sotto controllo molto spesso i genitori mi chiedono Federica ma qual è l'età giusta per comprare il cellulare? e poi io lo vedo che mi guardano, che aspettano, aspettano da me una soluzione un'età precisa, un numero preciso vorrebbero un'età anagrafica spessissimo scherzo, 10 anni, 3 mesi, 2 ore li vedo che mi guardano a libiti secondo me non c'è l'età anagrafica giusta mi sono confrontata con molti pediatri, molti miei amici i quali vietano l'uso del cellulare ai bambini al di sotto dei 12 anni per due motivi principali il primo è per i danni alla salute cioè il rischio di tumore provocato dalle onde elettromagnetiche e le possibili conseguenze sulla loro capacità di concentrazione e sulla memoria il secondo danno riguarda la dipendenza che l'uso di smartphone può indurre soprattutto nei bambini sei d'accordo con me che queste due considerazioni sono fondamentali? ma è anche molto ma molto necessario secondo me considerare un altro elemento la maturità del proprio figlio come genitore occorre chiedersi due domandine te le porrai no? mio figlio è preparato sui rischi che ci sono nel navigare in rete? mio figlio ha 8, ha 10, ha 12 o ha 14 anni è in grado di gestire o di difendersi in caso di scherzi, di battute, di prese in giro, di videoporno di tutto quello che c'è dietro alla rete? questa è una domanda fondamentale anche perché tu come genitore prima di tutto devi conoscere cosa c'è dietro alla rete i pericoli che ci sono, i pericoli che può andare incontro tuo figlio e se lui è in grado di gestirli se lui è in grado di venirti a dire papà aiutami, mamma aiutami mi è successo questo, cosa devo fare? la seconda domanda che ti puoi porre è mio figlio o mia figlia è in grado di gestire in completa e totale autonomia il cellulare? mi spiego meglio, secondo te quando è l'ora di andare a pranzare o a cena oppure quando deve fare i compiti? secondo te in totale autonomia tuo figlio spegne il telefono, ha la consapevolezza di spegnerlo per poter andare a fare i compiti oppure no, oppure per lui è un divertimento, è uno spasso totale dove ci sta ore e ore e non lo spegnerebbe mai la terza domanda è questa tuo figlio tende a perdere le cose? tende a perdere gli oggetti? si dimentica un po' tutto? e sì, ci sono dei bambini molto distratti quei bambini che hanno sempre la testa fra le nuvole quindi a questo punto la domanda a che età devo comprare il cellulare a mio figlio? secondo me non ha senso, sei d'accordo? e sì perché a sei anni una bambina in America mentre la sua mamma stava dormendo le ha preso il cellulare ripeto sei anni e ha fatto degli acquisti e se ne è accorto il papà ha speso circa 250 dollari o 150 non mi ricordo e ovviamente il papà ha chiesto delle spiegazioni alla moglie la quale si è resa conto che la figlia aveva acquistato dei giocattoli per sé ripeto sei anni i suoi giochi preferiti, pokemon e alla domanda ma che cosa hai fatto? lei ha risposto sei anni non ti preoccupare cara mamma arriverà tutto a casa sei anni la mamma dorme e la figlia di sei anni fa la spesa